Lorenzo Crespi Direanno che mi volevano bene. Uno sfogo disperato e un attacco contro tutti coloro che, a suo dire, lo hanno abbandonato a se stesso. Tutti sanno come sto vivendo. Ma se non possono usarmi. Non possono aiutarmi, scrive il protagonista di tante fiction televisive, raccontando di vivere, in condizioni pietose, da giorni senza luce, senza gas, una malattia ai polmoni, totalmente congelato, abbandonato da tutti. E ancora, la mia è una totale denuncia alle istituzioni. E a tutti quelli che in questi anni sapevano e hanno accettato in silenzio senza dire nulla che io vivessi in condizioni così disumane, aggiunge Crespi su Twitter. A tranottata al gelo scrive l'attore in uno degli ultimi post pubblicati siti, giornali, chiacchierano tutti ma qui non è venuto nessuno, non riesco a lavarmi da cinque giorni, è questa la vergogna vera. Lorenzo Crespi accusa Barbara D'Urso? A fare scalpore anche un tweet in cui Lorenzo Crespi sembra attaccare persino Barbara D'Urso, che si è più volte occupata del suo caso negli anni passati, quando l'incubo dell'attore ebbe inizio con un'infezione polmonare dalla quale però aveva poi dichiarato di essere guarito. In seguito ai commenti dei follower, l'attore ha precisato meglio la questione.